Mi serve il tuo aiuto. Per cosa? Per risolvere un mistero. Ti troverai a indagare su ladri, avari, prepotenti, la più detestabile collezione di individui che incontrerai mai. La mia famiglia. Questa è Harriet. Qualcuno della famiglia ha ucciso Harriet. E da 40 anni a questa parte cerca di farmi uscire di senno. Questi da lei e gli altri dal suo assassino. L'ultima volta che ho pubblicato qualcosa senza averne la certezza assoluta ho perso i risparmi di una vita. Mi serve un assistente. Lei è tra i migliori investigatori che ho. Temo solo che non le piacerà. È diversa. Non ti sei mai adattata alle famiglie affidatarie? Hai sempre manifestato aggressività e violenza? Mi occupo di me stessa da quando avevo 10 anni. Lo Stato si occupa di te. Lisbeth? Posso chiamarti Lisbeth? Voglio che mi aiuti a prendere un assassino di donne. Non ho la più pallida idea di come siano collegati alla morte di una sedicenne. Che fai? Leggo i tuoi appunti. Sono cifrati. Ti prego. Stupro, tortura, fuoco, animali, religione. Mi sfugge qualcosa? I nomi. Forse ho qualcosa. A nessuno piace chi ficca il naso nella tua vita. Lo sanno tutti perché sei qui. Qualcuno l'ha uccisa. Qualcuno sull'isola quel giorno. Se una donna si accosta a una bestia per lordarsi con essa, ucciderai la donna e la bestia. Questa gente è pazza. Presto ci conoscerai tutti. Fin troppo bene. Con le mie scuse. Fin troppo bene.